Ci sono anche altre particolarità, per esempio inizialmente, questo vale anche per il Maggio Befana, non partecipavano a questi canti di questua né le donne, cosa che invece oggi anche le donne fanno parte di questo nostro gruppo. Questa sera, dedicandola a Magliano e a tutti i maglianesi. Magliano, dopo tanto ti rivedo, sono passati quasi più di trent'anni. Quarti ai miei occhi io più non credo, oggi ti vedo nei migliori panni. Molte facce nuove adesso vedo, spero che la memoria non mi inganni. Per ricordare gli amici tutti quanti vorrei tornare indietro e non avanti. Gli anni che sono passati sono tanti, Magliano era solo dentro le mura e insieme con Maggini quanti canti si cercava spesso l'avventura. I contadini insieme cobraccianti era un'amicizia grande e pura. È bello ricordare con dolcezza i meglio anni della giovinezza. Di casa noi si stava a banditaccia, molti di voi se ne ricorderanno. E da quel dì poi se ne è persa traccia, solo i ricordi non si perderanno. L'età più bella che nessuno scaccia, però se ne va via, anno per anno. Ma anche se si perdono i capelli, io voglio ricordare gli anni più belli. Vi saluto insieme ai miei fratelli e vi dirò con gran soddisfazione che rivedervi tutti, questi e quelli, mi sento vince dalla commozione. Quella vita che da giovincelli si passo qui fra le meglio persone. Pensando a quei ricordi più felici, io vi saluto tutti, sarei amici. Grazie. 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 pronto il fratello, con la sorella si balla un bello e il domenico inventa la storia, prima la dice fuori della sua poi c'è Fabrizio, così carino, suona la pisa e pare carino e la più giovane o da di Manola, che a volte canta e a volte suona questa ragione è cantata alla Mona per presentarvi l'ottava zona e qui finisce la presentazione e cominciamo l'ottava ragione